Il derby tra Forlì e Ravenna si cibava di tante storie che alimentano una rivalità mai sopita. Di certo faceva scalpore la sfida fra i doppi ex Mauro Antonioli e Massimo Gadda, entrambi protagonisti di ottimi campionati alla guida di Ravenna e Forlì e oggi fieri avversari di un match che aveva anche solidi riflessi per la classifica. In particolare proprio per i galletti padroni di casa chiamati alla vittoria per accorciare le distanze ed è una Forlì che inizia subito con Aspron battuto qui, quasi trova il gol Prestiani sulla riga di porta. Un salvataggio gli dice di no, si resta sullo 0-0 dopo appena 7 minuti di gioco. Ci prova il Ravenna con il discusso ex della partita variale, la rovesciata però finisce alta. E poi arriviamo al quarto d'ora di gioco, il Ravenna potrebbe passare qui Tirelli, si divora un gol a tu per tu col portiere calciando alto. E allora attenzione di nuovo al Forlì che cerca fortuna dalle parti dell'estremo difensore del Ravenna. Il pallone che viene controllato alla fine proprio da Cordaro su questa conclusione centrale. Spostiamoci di appena un minuto ancora Forlì in attacco con Greselin che riceve sul lato corto dell'area di rigore. Poi la conclusione salvata ancora da Cordaro, si alza la bandierina dell'assistente, c'è fuori gioco, quello di Casadio. Andiamo allora al 47esimo calcio di punizione per il Ravenna insidioso. Il pallone messo al centro da parte di Nappello, Pezzolato risponde coi pugni. Ancora il duello fra i due giocatori qui, Pezzolato non deve impegnarsi al sesto della ripresa, sempre sulla punizione di Nappello. E poi ancora il Forlì in attacco, in area di rigore c'è Greselin che mette al centro un cross e poi la conclusione. Incredibile la risposta di Cordaro su Casadio, salva letteralmente la porta del Ravenna. L'estremo difensore classe 2004, poi ancora il Forlì in attacco, una mischia furibonda e c'è ancora lui. Grande risposta di Cordaro, questa volta dice di no a Drudi. Poteva essere il primo gol del giocatore rientrato proprio poche settimane fa al Forlì dopo tanti anni. Sempre Cordaro in uscita che dice di no anche a Merlonghi. Alla trentaseiesimo minuto, poi trentanovesimo ancora una Forlì sicuramente molto audace nella ripresa. Lo scarico al limite, la conclusione è alta però in questo caso imprecisa di Casadio. Quella che finisce sopra la traversa nel finale, spulso anche per proteste in Nappello. Doppia munizione per lui e alla fine è 0-0 tra Forlì e Ravenna. è un risultato che mantiene ancora inalterata la situazione di classifica delle due squadre.